Ragazzi sì, Larry Wills è stato brutalmente schiacciato e umiliato da questo personaggio qua, che magari qualcuno di voi lo conoscerà anche, si chiama Morgan Aste, è un IFBB Pro, quindi un bodybuilder professionista, e già vedete le enormi dimensioni rispetto a Larry Wills che appare piccolino, è minuscolo Larry Wills, io nutro una passione incredibile verso Larry Wills, l'ho anche sfidato a braccio di ferro, ho fatto anche un video con lui dove lo sfido a braccio di ferro, è una fiera qui in Inghilterra dove io vivo, a Birmingham, all'Arnold Classic, trovate il video qui nel mio canale, mi comparirà anche in alto a destra la schedina, potete cliccarci e godervi, anche io ovviamente ho umiliato Larry Wills, Ma vabbè, guardate le cianci, parliamo di questa seconda, di questa prima umiliazione che ha subito Larry Wills un anno fa, cioè il 7 aprile 2021, quindi ho scavato nei meandri del canale di Larry Wills per trovare assolutamente questo video che ora ci vediamo insieme, vabbè innanzitutto qua vediamo le incredibili dimensioni, lui si sforza. Forza